Vai Chiara, e non voltarti indietro. Vi chiedo perdono padre, e vi restituisco tutti i soldi che vi ho preso. Perché? Per offrirmi al Signore, così come una sposa si offre allo sposo. Una donna, qui con noi. In Chiara tutto è limpido. Avevi ragione Francesco, è vero, io non devo diventare uno dei tuoi frati. Chiara e Francesco, con Ettore Bassi e Mary Petruolo, lunedì alle 21.15. Io ormai ho preso i voti. È chiusa. Bussate, vi sarà aperto.